Il Porto è un vino amatissimo dai britannici. Per gran parte della sua storia, il Regno Unito è stato il primo mercato. Per questo non deve stupire che i produttori più antichi e conosciuti siano spesso di origine inglese o scozzese. Oggi queste case vinicole seguono con apprensione la tormentata trattativa per la Brexit. Nelle cantine di Taylor's Maison nata nel 1692, incontriamo l'amministratore delegato Adrian Bridge. La Brexit è un grosso problema. Dal voto di giugno 2016 il valore della sterline è crollato del 15%. È assolutamente possibile vederla scendere di un ulteriore 15% se si uscirà con un accordo controverso. Sarebbe una calamità per i nostri affari. L'unico modo per continuare la nostra attività sarebbe aumentare i prezzi. E non penso che molti consumatori britannici siano disposti a pagare un bicchiere di porto ancora il 15% in più. Quindi il nostro commercio sarebbe dimezzato. È un problema grave. Ad oggi il Regno Unito da solo rappresenta un quarto degli acquirenti di questa azienda. Ci costerebbe 10 milioni di euro. Avrebbe un grosso impatto sul nostro personale e sul territorio, prosegue Bridge. Non è così immediato trovare altri mercati. Ci vuole tempo. Se usciamo con l'accordo MEI o con uno controverso, ci saranno almeno quattro anni di incertezza. E in questo scenario è veramente complicato fare business. Per queste aziende è importante non lavorare in un clima di confusione, dice Gilberto Igrejas, presidente dell'istituto che tutela le denominazioni d'origine del porto e dei vini della Valle del Duro. Bisognerà capire come affrontare un nuovo mercato e nuove politiche europee. Quando Bruxelles e Londra raggiunsero un accordo per la Brexit, dice la nostra corrispondente, il Portogallo lo accolse positivamente per gli interessi del paese, anche perché proteggeva l'industria del porto. Ora che il patto rischia di saltare, l'incertezza è la parola chiave per questo storico commercio. No Porto, Portugal, para a Euronews.